Ciao a tutti e bentornati nella nostra cucina. Oggi faremo insieme la salsa greca di cetriolo e menta. Vediamo insieme gli ingredienti. Allora, ci servirà un cetriolo, due spicchi d'aglio, un vasetto di yogurt greco, una manciata di foglie di menta fresca, due cucchiai di olio d'oliva, un po' di sale e un po' di pepe. Andiamo alla preparazione. Per prima cosa andiamo a sbucciare il nostro cetriolo. Tagliamo quindi a pezzettini il cetriolo. E lo andremo a mettere nel mixer. Iniziamo quindi a tritare per qualche secondo il cetriolo. Aggiungiamo anche due spicchi d'aglio e continuiamo a tritare. Aggiungiamo anche qualche foglia di menta. Trasferiamo tutto in una piccola ciotola e poi andremo ad aggiungere lo yogurt. Aggiungiamo lo yogurt. e mescoliamo bene. A questo punto aggiungiamo i due cucchiai d'olio d'oliva. Poi aggiustiamo di sale e pepe. Poi aggiungiamo i due cucchiai d'olio 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 d'olio. Per chi vuole può aggiungere anche un pochettino di succo di limone. Quindi a questo punto continuiamo a mescolare. Faremo quindi riposare la nostra salsa per almeno un'oretta in frigo. Ecco qui pronta la nostra salsa greca. Ottima per condire l'insalata o accompagnata con delle polpettine di carne o di pomodoro. Mi raccomando ricordatevi di iscrivervi al nostro canale. Buon appetito a tutti e alla prossima videoricetta. Ciao! Ciao!